Il motivo è che poco a poco non sta entregando l'autonomia e la luce di battito, in modo che il bolo non sta cortando le cose. Sì, è un motivo che ci sono alcune cose che non sono mai contenti, ma non è arrivato a manifestare. È un momento in cui c'è tanta polizia, perché mida è la stessa parola che mi parecia dicha e non si andrà, ti stai, ti stai, ti stai, ti stai, ma non è il primo momento non. Il problema è che con questa bandola si andrà in merda, quando è che BOLTER, il lighttower, che siano candeli, si andrà, non è andata arrivando, con una bandola di Representers Cantori. Io già parlò di mia nuova, poca palavra non meno bonita che non, quindi c'è una persona che apparentemente c'è un coordinatore a tirare l'autore da me, quindi la mia dura che ho avuto per me vim entregar un giro oficiale, perché mi dava pensare che non lavorasse contro di me, quindi io penso che la mia dura djwebs che ho avuto per me vim entregar un giro contro di dj. Ora, qui mi ha mostrato il video che la maggiori persone che ho avuto per Facebook, che quando mi sono andato a girare, mi ha chiamato un personaggio per una parola non molto bonita, mi ha chiamato traidor, che non è bene, quindi mi sono andato a girare, quindi mi sono andato a girare l'isla che ho avuto per l'arrivo di Ranaissance e ho avuto per l'auto non passa, quindi mi sono andato a tirare l'auto da me, e due viaggi sono andato non mi sono andato a girare l'autore per me, quindi mi sono andato a girare l'autore a girare l'autore per me vim exerire l'autore per me, quindi non mi sono andato a girare l'autore per un momento sì. se c'è un video che si fa in FB se c'è un video per gravere e il video sta in FB il video ha dato 17.000 like e se c'è... views se c'è un video se c'è un video se c'è un video che mi senti qui stai manifestando ma io ho detto che c'è un paese libero se non c'è un video se non mi piace di manifestare, se non mi ricordo di cosa sta passando via Facebook, ora con il mio post e video mi chiede per riconoscere persone qui per non sapere chi è stato ci sono diverse persone con un coordinatore di beni che si chiama Daniel Flanders che è il controllo del casino mi consiglio per non andare avanti e non mettere un pezzo offiziale con i giovani che ci sono più quieti e ci sono più potere mi consiglio per riconoscere un paese libero e democratico che ci hanno il derecho a non dimostrarnos mal contenti